Ho visto che i miei pugni erano così e se tu tieni non puoi neanche prendere stando con le mani con i pugni serrati e ho detto allora devo lasciare andare e ho fatto tante di quelle cose che ho fatto l'elenco e ho detto ma come cavolo ho fatto a fare tutto? Cioè è stato sorprendente Ho un'esperienza fortissima che ho vissuto io con mia figlia dopo il debito padre io ho fatto questa rap era sul computer quindi non l'ho messa in cuffietta mia figlia era accanto a me dormiva suo padre è arrivato perché lì c'è un rapporto con il padre molto sofferente io sono separata da otto anni e lei non ha questo rapporto con il suo padre lui è venuto e ho visto l'amore fra loro due lei aveva fatto pace con il suo padre io mi sono liberata dei miei pesi li ho visti tutte e due con una luce con un amore spettacolare e da allora il rapporto con i loro due è cambiato e quindi solo per questo ha meritato fare bello anche finanziariamente ricevere soldi incrementare però per me quello è stato più di una cifra di un assegno perché lei si è pulita di questi attuanni di pesantezza con il base si gettano veramente le basi come dice la parola il gold è il regalo più bello che ci possiamo fare perché la metti le basi la vai a lavorare questa dinamica che veramente si trasforma va fatta perché se uno non la fa non si rende conto della differenza le cose vanno veramente molto veloci si sente proprio l'energia che si trasforma basta grazie a tutti grazie 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 grazie